Musica Tante belle cose a tutti ragazzi bentornati su KM Channel sempre in compagnia di GameArch Oggi video estremamente breve in attesa del nuovo eroe Wraith che uscirà domani E calcolando che comunque ho messo un video molto lungo sabato con migliori e peggiori eroi di Paragon Se non l'avete visto era indirizzamento al solito in alto a destra Questo video di oggi è semplicemente per annunciarvi qualcosa Ovvero è nato il canale Twitch Adesso ho una connessione decente finalmente, ho la fibra E quindi è nato il canale Twitch Ci saranno due stream fisse a settimana Una il martedì e una il giovedì sera Dalle nove in poi E poi ci saranno anche altre stream non programmate Ogni tanto quando mi metto lì a fare un po' di partite streamerò Quindi ci sarà la possibilità di avere un contatto un po' più diretto rispetto ai video di YouTube Il canale del link Twitch è il seguente Comunque potete andarlo a trovare in descrizione Mi raccomando iniziate a mettere il follow Iniziate a mettere la ricezione delle notifiche Così ogni volta che vado in live se volete potete seguirmi attraverso Twitch Così da passare un po' di tempo insieme in presa un po' più diretta rispetto ai video su YouTube Quindi programmazione fissa martedì e giovedì sera E programmazione variabile non programmata Ogni tanto quando giocherò comunque in linea generale Penso che ci saranno almeno tre live streaming a settimana Quindi ci sarà un bel po' di attività su questo canale Twitch Ho deciso di streamare su Twitch e non su YouTube le live Semplicemente per una questione di comodità E per una questione di praticità dell'utilizzo Twitch a livello di live È una piattaforma pensata apposta per questo E onestamente ho provato entrambe sia Twitch che YouTube E devo dire che per la live preferisco Twitch Quindi tutte le live saranno fatte nel canale Twitch Va bene, questo qua era il messaggio del video di oggi Video molto conciso Quindi non mi resta altro da dirvi Da gamearci è tutto Domani andiamo a provare il nuovo vero E mercoledì uscirà il video gameplay Ciao 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 Ciao